Siamo Taranto, l'associazione che collabora, che svolge una funzione di supporto ovviamente sul piano del volontariato rispetto all'attività istituzionale di Chima Ambiente e qui a Tramontone intenta nell'ennesima azione di bonifica e vedete qui ci sono dei volontari che con il massimo igiene catturano tutti, afferrano tutti quei rifiuti che tanta gente incivile scriteriatamente e maldestramente ha ritenuto opportuno gettare. Allora, come va oggi? Molto bene, va molto bene, siamo contenti di partecipare a queste iniziative anche per un senso personale, io personalmente sono di questa zona e frequento questo posto da bambino e mi è sempre comunque preso un po' male al cuore vedere questo tipo di situazioni. La riflessione che uno fa è che uno dice ma voi fate tanto per ripulire e ci vuole davvero poco a distruggere, non ci vuole nulla buttare un foglio di carta, un fazzoletto alto, un pacchetto di sigarette e voi dovete rappezzare alle inciviltà altrui. Non bisogna rappezzare ma secondo me è anche sempre molto importante dare un po' di esempio perché magari su dieci, mezzo riesce comunque a percepire il beneficio di avere un luogo più pulito e magari ci si aspetta che possa essere un'iniziativa a cui possa partecipare anche questa persona la prossima volta. Civilizzarla e soprattutto è anche un esempio per i più piccoli, una funzione educativa. Quello fondamentale perché secondo me sono le prime persone che devono essere educate perché loro saranno il nostro futuro e quindi è fondamentale fondamentalmente dare un esempio. Ma io vedo che spesso e volentieri proprio i bambini stessi quando mi trovo io nelle spiagge a pulire in maniera totalmente indipendente, ma i bimbi ti guardano in maniera strana però poi alla fine ti incominciano a seguire. Quindi questo è un segnale positivo secondo me, è un segnale che serve dare a Taranto fondamentalmente. Grazie e complimenti. Prego. Grazie.